Dopo la standing ovation degli eurodeputati al termine del discorso di Papa Bergoglio al Parlamento UE lo scorso 25 novembre, domani in Vaticano si terrà un incontro di riflessione su quelle parole. L'Europa aveva detto Papa Francesco Ruoti sulla sacralità della persona e non sull'economia. A quell'incontro parteciperà anche Alessandro Volpi, fondatore della SIDA, Associazione Solidarietà della Sindrome di Immunodeficienza Acquisita. Ecco le sue dichiarazioni ai nostri microfoni in vista dell'incontro. Questo invito mi è stato presentato dopo l'intervento e dopo la partecipazione a religioni e conflitto voluto dall'Accademia di Scienze Umane e Sociali e Religion for Peace. In questo momento difficile a livello di globalizzazione e una globalizzazione che passa attraverso il virtuale e che cosa? Il fattore identitario anche nazionale perché partendo dagli studi fatti anche nelle scuole la nostra interazione è quella sulla gestione del conflitto non solo familiare ma anche di interazione con le altre etnie. Quindi la gestione anche di conflitti inerenti ai nostri giovani che comunque sia si trovano in questo momento a dover condividere anche gli studi con altre culture. Per me è una cosa emozionante perché è un riconoscimento dopo 12 anni di lavoro qui nel territorio ma anche nel territorio nazionale per quanto riguarda metodi di prevenzione.